Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di MondiCubi Ragazzi, premetto che oggi sono veramente stanco, quindi se appunto mi sentite stanco, cose così Ve lo dico già subito appunto, sono demolito Detto questo ragazzi cominciamo con l'episodio di oggi Anche se appunto sono demolito perché ho avuto una giornata veramente dura oggi Interrogazioni, verifiche, casini vari Calcolate anche questo quando guardate un video tutti i giorni Che la persona che li fa spesso e volentieri è stanca perché è difficile Soprattutto in inverno, non so se anche voi in inverno andate tipo Se avete bisogno di andare in letargo proprio Anche se dite no, non sono un animale ma voglio andare in letargo lo stesso Vorrei dormire tutta la giornata ma non posso Quindi, senza stare a parlare di stecavolate qua Oggi cosa faremo? Nel scorso video abbiamo fatto lo smistamento chest In questo video andremo ad unire lo smistamento chest con la farm di Iron Infatti qua ho già fatto una colonna di hopper che arriva fino in superficie Vi faccio anche vedere Questa colonna di hopper appunto arriva fino in superficie E arriva a combinazione molto vicino alla farm di Iron Come dico combinazione con questo tono perché avevo premeditato questa cosa Cioè volevo che lo smistamento chest fosse vicino alla farm di Iron In modo che fosse tutto quanto molto vicino E i chunk fossero sempre caricati E tutti i frutti della farm di ferro Diciamo Finissero subito direttamente in casa nostra Comunque qua abbiamo l'hopper madre Ho tolto la cassa Beh lo chiamo hopper madre perché è quello che riprende tutto Appunto di qua continuerà subito Andrà giù di uno Continuerà Continuerà Andrà giù di uno Continuerà anche qua Andrà giù Andrà giù Andrà giù Dove appunto abbiamo la nostra colonna di hopper Logicamente questo lavoro è il lavoro che farò tutto off camera Perché è semplicemente un crafting degli hopper e un piazzamento Andrò a fare magari poi il cablaggio Ovvero la copertura con voi O magari anche gli ultimi hopper da piazzare li piazzerò con voi Tanto penso che ne costruirò veramente molti Però adesso piuttosto cominciamo a pensare ad altre cose Ovvero qua come vedete ho con me un botto di quarzo e degli item frame Perché adesso voglio andare a fare una piccola cosa Allora voglio andare a impostare Ehm Appunto i frame che andranno vicino a A le casse Allora non so se metterli qua o qua Credo qui Oddio Ho scoperto un bug Non ci credo Se c'è una scalina Aspettate un secondo Se c'è una scalinata Prima c'era Prima funzionava ragazzi Aspettate un secondo Avete visto prima che si apriva la L'hopper Oddio ero tipo Ah ecco 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 Guardate Sulla parte bassa dello scalino Io posso anche aprire le casse attraverso lo scalino Vediamo un attino Sì che figata Ma è un bug questo decisamente Sì decisamente un bug Guardate Sì sì E riesco a aprire le casse anche se clicco sullo scalino Non lo sapevo questa Comunque Ehm Andiamo appunto a piazzare i nostri item frame Senza stare a cercare i bug Prendiamo anche uno scalino Sì infatti lì bisogna mettere gli scalini Perché Ehm Diciamo che le altre cose non vanno molto bene Calcolando che Ehm Appunto Cioè gli altri blocchi non vanno molto bene Calcolando che Se noi piazziamo un blocco qua La cassa non si apre Quindi no Non va per niente bene Piazziamo qua due scalinate Due scalette Non due scalinate Oddio cosa sono Le scalinate Non mi sembra proprio il caso Allora Andiamo Eh no Le hopper non abbiamo Quindi andiamo Oddio ma perché mi bago pure nelle casse Maledetto Minecraft Allora Andiamo a prendere un diamantissimo Un diamantissimo Mamma mia che pronuncia No Qua Ok Diamantissimo qua Poi Un pezzo di ovo Un pezzo di ovo Poi un pezzo di fervo Di fervo Ok Mettiamo il fervo E qua mettiamo il quarzo Il quarzo Ok Perché parlo come un mongoloide oggi non lo so Vabbè È normale È normale Eh sì Si impazzisce Pian piano impazziscono tutti Ehm Vabbè adesso l'ho già smistato Però poi andrò a impostare filtri Comparatori eccetera eccetera Niente ragazzi Siamo già a quattro Sono molto soddisfatto Di questo Di questo risultato Beh Ne abbiamo ancora un bel po' È da fare Direi di oggetti Tipo Tutti quelli che abbiamo Nell'inventario Ma va bene Un passo alla volta Si arriva a fare grandi progetti Comunque Andiamo a prendere delle casse Beh questo qua poi lo farò off camera Li imposterò off camera E andiamo piuttosto adesso a fare comunque un piccolo stacco Perché dovrò craftare dei comparatori Degli hopper E un bel po' di roba sostanzialmente Per collegare la farm di ferro A tutto questo circuitino qua Comunque qui Ho l'oro Quindi qua devo impostare il filtro del Del quarzo E del E del ferro Che lo faccio adesso con voi Tanto vale Ok Aspettate ma non avevo prima del quarzo Nell'inventario Avevo questa cassa Che l'avevo messa lì solo momentaneamente E si Ne avevo già di Di materiale Cioè di ferro Mi sembrava strano Mi sembrava strano Beh lo teniamo comunque Allora andiamo a impostare i filtri con voi E appunto poi andrò a fare un piccolo stacco Allora i filtri Ormai lo sapete meglio di me Si impostano di qua Si fa così Uno alla fine Poi cinque volte così Ok Poi uno in fondo E uno all'inizio E non parte perché non ce l'ho per sotto Ovviamente Lo sapevo Stai tranquilli No scherzo Non me lo aspettavo Allora uno qua Cinque volte qua Ok Uno qui E uno in fondo Ok non parte ancora logicamente Adesso andrò a fare I comparatori La redstone Di tutto e di più Beh la redstone l'ho già piazzata Il repeater qua sotto L'ho già piazzati tutti Come vedete Li posso anche ritardare Wow Ok basta ritardare i repeater E qua andrò a mettere le torci di pietra rossa Che me ne servono ancora due Quindi andrò a fare anche quelle Beh andrò a portare avanti lo smistamento Praticamente E Niente Quindi direi che Faccio questo piccolo stacco E ci vediamo tra poco Con il cablaggio E con Diciamo Il test Dello smistamento Ok ragazzi Eccoci Ho preso tutti i materiali E Ho dovuto farmare un bel po' di legno Principalmente è stata questa La mia attività E Dov'è il mio Manca uno stack di ferro Va a quel paese Oddio vado a prenderlo subito Scusate Ce l'ho qua nella cesta Ve lo giuro Dov'è Eccolo qua Ok vedete che è molto 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 comodo Avere tutto quanto qua Si Il ferro scarseggia Lo vedo Non ricordatemelo Perché Mi viene da piangere Allora qua mettiamo Mezzo stack di ringotto Dappertutto Mezzo stack di casse Guardate qua Stiamo per fare ben 32 hopper Con Due stack e mezzo Di Ferro Facciamo 32 hopper Senza considerare legno Perché comunque di legno Ne ho utilizzato uno stack grezzo Quindi Quattro stack lavorati Automaticamente E Comunque Direi che Speriamo Che possa bastare Allora 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 Andiamo Cercare di fare Un bel lavoro Ok Tac Tac Speriamo Che venga davvero Un bel lavoro Ragazzi Perché altrimenti Sclero malissimo Ok Dai forza Qua appunto È soltanto Un'operazione di Piazzamento Ok Qua Ci serve la terra Appunto Comunque volendo Dov'è il mini zombie Ti ho sentito Da aver sentito anche voi Dove sei il mini zombie Sei qua vicino Vero Aiuto Ah si però Non mi Però mi vuoi bene Vero Mi vuole bene Che tenero Mi vuole bene Eh si non mi attacca Perché secondo voi Perché mi vuole bene Non perché Oddio Che cavolo Che cavolo sta facendo È impazzito lo zombie Non riuscivo a colpirlo Ma va bene Comunque Continuiamo con l'operazione Di Operaggio E Cominciamo anche A cablare Tutto quanto Vedete Così Così non si noterà Nulla Anche se qua sotto C'è una cosa Spaventosa Di hopper Ok Poi dovremmo fare un test Ovvero Per vedere se qualcosa È andato storto Dovemmo Mettere un item Dentro All'ultimo hopper E vedere se è partito Ok Quindi adesso facciamo così Così Oddio se non bastano Ragazzi davvero Scredo malissimo Qualcosa mi dice che non bastano Ti prego Ti prego Ti prego Ti prego No No Quanti ne mancano Uno Due Tre Quattro Cinque Oddio Sei Mi mancano sei Addirittura Sei hopper E beh li vado a fare E Niente ci viene tra poco Ok ragazzi Eccoci ho fatto questi maledetti sei hopper Mamma mia Sei veramente Una cosa assurda Minecraft Così tanti hopper È veramente Devastante Non ce la posso fare io Economicamente A sostenere una spesa del genere Comunque Tre hopper bastano Sì Per fortuna Sì Per fortuna Sì Questa volta Ci va bene Ok Andiamo Senza magari Bruciarci la capoccia A mettere tutto quanto Ok Adesso Proviamo Meglio A vedere Se mettiamo una rosa qua Una rosa qua E una rosa qua Ok Le altre le mettiamo Tutte quante qua dentro Ok Le rose dovrebbero partire Sì E niente Dovrebbero arrivare fino Oddio Ho toccato il microfono Scusate Dovrebbero arrivare fino A Alla nostra casetta Adesso Tappiamo tutto quanto Io davvero Spero che quelle rose Siano arrivate a casa Perché altrimenti Bisognerà Mettersi Con tutta la calma Del mondo A cercare La maledettissima La maledettissima rosa Perduta Comunque le rose Non mi ricordo bene Quante erano Comunque anche questo Cubetto di Sub Di terra Dovrebbe partire Quindi se non Non conta Quante sono Diciamo così Ecco Ok Non si nota più nulla Praticamente Sembra Non esserci nulla Ma in realtà Qua sotto è pieno di hopper Adesso andiamo a vedere Che fine hanno fatto Le nostre rose Proibite Allora le nostre rose Sono arrivate direttamente In casa Tutto automaticamente Sempre Bla 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 E adesso Dove non si sono smistate Perché logicamente Non sono programmate A smistarsi E Adesso andiamo a dare un'occhiata Dov'è che si dovrebbero Andare a smistare Oddio Qua è troppo buio Decisamente Per i miei gusti Perché se qua si spawna un creeper E io un giorno entro No Non ci vuole neanche pensare Allora No Questo qua è pieno Questo qua è pieno Qua ci sono le rose Ok ragazzi Posso Ufficialmente dire Che la farm Funge Meglio funge Funge tutto l'impianto Che abbiamo fatto Poi se Diciamo I lingotti Andavano effettivamente qua È tutto da scoprire Però Adesso cominciamo A rimettere a posto I nostri eventi di lingotti Poi li vedremo Comunque che arrivano Fin qua Alleluia ragazzi Alleluia veramente Ok ragazzi Eccoci Scusate l'interruzione Sono andato un pochettino Avanti col soffitto Anche se ne manca Ancora un pezzettino Tutto sommato Sono andato Leggermente avanti Con lo smistamento Però adesso Appunto mi sono fermato Perché non avevo più tempo Anzi Proprio per oggi non ho più tempo Ragazzi Spero che comunque Il video vi sia piaciuto Ehm È stata una cosa Magari Un pochettino Troppo Semplice Secondo voi Ehm Credetemi di no Perché Craftare tutti quegli hopper È stato È stato veramente Veramente molto difficile Ehm Non mi riprenderò mai È difficile Craftare hopper È veramente una cosa brutta No davvero Però è una cosa Non brutta Però è costoso 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 Ragazzi Adesso parliamo di due cose Anzi tre cose Molto velocemente Ehm Poi appunto vi saluto Perché Questo video è durato Veramente Abbastanza Direi Anche perché Il tempo Che ho a disposizione È poco Per essere qua In questa zona Andremo a fare Il nostro prossimo progetto Che sarà un pollaio Prima di mostrare il pollaio Però vi voglio parlare Delle altre due cose Che sono I live E La seconda serie Allora i live Ehm Ci saranno Non c'è nessuna fretta di farli Stai tranquilli Perché Tanto li faremo su Twitch TV Ehm Che appunto vi lascio Poi in descrizione Tutto quanto Cosa fare Tanto sarà una cavolata Ehm Farò anche Cioè Principalmente farò HG con voi Nel Nei Diciamo Nel Nei live Potrete registrarli Anche SP Potrete Anche se siete SP Potrete registrare Perché giocheremo In server SP Quindi non ci sarà problema E Poi vedremo cosa fare Se voi volete fare Qualcos'altro Vediamo Cioè Decidete voi ragazzi Ricordate Cerco sempre di Far decidere Più possibile voi Ehm Niente Per il resto Ehm Appunto i live ci saranno Vi contatterò Quanto prima possibile Con un video molto rapido Dove dico Ragazzi Quel giorno Quell'ora Tra qualche ora Tra qualche giorno C'è Il live Fatevi trovare Su questo sito E vi lascio Il link in descrizione Voi andate Pam E mi trovate Ok Molto semplice Adesso parliamo Della seconda serie La seconda serie Potrà essere su Quattro cose Diciamo Allora Due riguardano Minecraft Due riguardano Giochi all'infuo Di Minecraft Cosa che preferirei fare Ma Ahimè Penso che sarà Difficile A meno Per questo Primo inizio Di queste prime Seconda serie Di questo primo Secondo video Qua nel frattempo Andrò a impostare Poi altri minerali Ehm Ovvero Mi spiego meglio Ehm Ho qua nel mio libro Quattro serie Che adesso Non vi sto a far leggere Tanto ve le sto per elencare Allora Sono Due Con dei modpack E due Con dei Giochi Che non sono Minecraft Giochi così Normali Allora Ehm Uno Il primo progetto Che ho avuto in mente E' andare su Il mio account Steam Rovistare un pochettino Nella mia libreria E anche se sono Magari giochi vecchi Ma Intendo veramente vecchi Fare qualche video Su quei giochi lì Che magari non ho mai Giocato veramente tanto E Niente appunto Riscoprire la libreria La mia libreria Steam Che tra l'altro E' anche ricca di giochi Che mi avete regalato voi Per il mio compleanno Ragazzi Veramente E' stato fantastico E ringrazio tutti quelli Che me li hanno regalati Perché ci sono stati Più utenti Che mi hanno fatto Di regali E Comunque Cosa devo dirvi ragazzi E Appunto O ci sarà Questa serie Sulla mia vecchia Libreria Steam Oppure ci sarà Una serie su Cubeboard Che è un gioco Che voglio fare Veramente Da molto 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 Tempo Ragazzi Credetemi che è da Veramente Tanto tempo Che io voglio fare Cubeboard Ma non ho mai avuto La possibilità di farlo Nel frattempo Mi faccio Un po' di comparatori Proprio me li sniffo E E niente ragazzi Appunto Non lo so Io vorrei Veramente Fare Una serie su Cubeboard Perché è un gioco Che mi piace Veramente molto Però non ho mai avuto La possibilità di farla E Adesso vedremo Vedremo Cosa ne pensate voi Nei commenti Anzi Penso che sicuramente Fare una serie Di Cubeboard Fatto sta Che lo dovete decidere Voi quando Per il resto Le altre due serie Che riguardano minecraft Sono Il solito modpack Con le mod Che io eviterei Oppure L'exit Che penso Sarà La nostra Decisione finale Perché Almeno Per quanto Per come la vedo io Credo che l'exit Sia un modpack Veramente Molto bello Che cos'è l'exit E' un modpack Che non prevede Diciamo la costruzione Di macchinari Cose strane E' un modpack Di avventura Cioè Lo conosceremo poi Bene Andando avanti Con appunto La nostra serie Eccetera eccetera Cioè con Con il nostro canale Però E' Veramente un bel modpack Vi consiglio a tutti E' un modpack Da provare Infatti Voglio farci una serie E penso che Quanto prima possibile Anzi Forse di tuo Domani lo proverò A registrare Farò appunto Un video Su questa serie Così poi penseremo Se portarla avanti o no Vi ricordo che Tutti i secondi video Si chiamano così Perché Usciranno Come video extra Non saranno assolutamente Video che andranno A intralciare Altri video Comunque Non andranno assolutamente A influenzare Un mondo di cubi State tranquilli Non ve lo tocco Un mondo di cubi E' Niente ragazzi Questo è quanto Direi che Comunque Mi sono dilongato Abbastanza Sono le 11 quasi E io devo ancora Renderizzare A caricare il video Quindi Capite bene Che come al solito Mi sono ridotto L'ultimo momento Vedete che Per farvi uscire Il video al giorno Faccio veramente Di grandi sacrifici Spero che Lo appreziate Quindi Io direi che Per questo video è tutto Io come al solito Vi ringrazio Vi invito Vi invito a lasciare Un commento Su cosa Volete vedere Cosa Devo fare Cosa Vi piacerebbe Quello che volete Lasciatemi un commento Su quello che volete Ehm Lasciatemi un commento Su Ehm Appunto La serie da fare Ehm Poi vi farò vedere Il polaro alla fine Nel prossimo video Perché il tempo È quello che è Intanto è pronto State tranquilli Ehm Vi dico solo Che è una figata Perché mi è venuto Veramente bene Ehm Niente ragazzi Lasciate un like Perché Ditelo voi Avete detto Bene Perché youtube è stronzo A commentare A iscrivervi Al canale Per stare aggiornati Ehm Niente ragazzi Quindi io come al solito Vi ringrazio E vi do appuntamento Al prossimo video Ciao a tutti